ciao ragazzi avete commentato in tanti le mie parate vi ringrazio o parecchi di voi ci hanno azzeccato altri un po meno adesso vi dico io le mie migliori 3 parate del girone d'andata al terzo posto Sampdoria Chievo colpo di tacco di Quagliarella in controtempo sono riuscito con la mano a tirarla fuori da quasi la porta secondo posto Chievo Verona Spal tiro da fuori aereo di Rizzo pioveva molto forte quindi campo insidioso ci sono arrivato con tutte e due le mani allungandomi sulla via sinistra al primo posto l'avete detto in tanti Chievo Verona Roma tiro di sci deviato parata di piede con lì a cura grazie a tutti